Siamo con Moresi del Derby County, partita che vi ha visto dominare dall'inizio alla fine, poi magari un leggero calo. Quali sono state le vostre impressioni durante la gara? Diciamo che la partita è stata dominata dal primo all'ultimo minuto, al secondo tempo abbiamo abbassato un po' il ritmo anche perché non avevamo cambi e poi dopo le feste un pochetto non abbiamo risentito naturalmente, come sicuramente anche gli avversari, comunque è stata una partita divertente e niente, ci siamo divertiti. Perfetto, allora grazie mille e un grosso in bocca al lupo per il resto della competizione. In bocca al lupo, grazie.